buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video con tesis99 nel video casual siete vestiti casual? se anche non lo siete potete guardare comunque questo video ora utilizzeremo l'abilità casuale dove bene o male credo che facci lui quello che vuole se devo mandare KO qualcuno altrimenti noi ci giochiamo tranquillamente questa partita ecco senza troppi patemi d'animo perché lo scorso episodio con la modalità medaglia sinceramente non mi era tanto piaciuta la situation infatti io medaglia non la utilizzerò mai e poi mai più a meno che magari quando riuscirò a fare una vittoria e poi tenterò di fare tipo il mega obiettivo ovvero di vincere una battaglia con tutte le abilità e la modalità medaglia sa ovviamente l'ultima che utilizzerò perché proprio non mi piace e se non mi piace non mi piace io voglio giocare tranquillo eliminare gli altri ovviamente perché ci siamo in questo coso qua siamo qua per fare le chiappe a strisce a tutti però non voglio avere troppi pezzi spazzatura volati addosso facciamo qua il bello buco non posso fare tetris mannaggia me no e vabbè però sbagliato sbagliato però possiamo comunque la miseria però basta dire però ecco e che stress io bro you going down la miseria non mi arriva una botta preparatevi per l'impatto no chiedevo di subire un impatto più tetris bro questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua mi servirebbero dei pezzi un attimino più ma perché tutti questi qua se la prendo aiuto allacciate le cinture che mo mi arrivano a no mo mi arriva mi sarebbe arrivata una botta di quelle potenti allora questo mettiamo qua te no non lo faccio tetris no perché erano tutti pezzi storti quelli là oh ma anche in casual qua rompono le balle comunque a me al sottoscritto e non va bene questa cosa dovrò giocare per forza di cose in modalità capo dove vado e distruggo tutti senza problemi dove sono io quello che attacca gli altri no mi servirebbe uno blu grazie mille dalla regia eccola là che mi hanno mandato quello giusto tetris le mandiamo via ritorniamo a livello 0 grazie molto gentili questo per adesso danno arriva non voglio intasare il buco altrimenti qua se è andato su ancora spero che vi stiano piacendo tutti i video che sto pubblicando le varie live adesso inizieranno varie live su i vari giochi se ce la faccio anche di pomeriggio eccetera eccetera benissimo anzi meglio mettere un pezzo del genere perché altrimenti era troppo facile era troppo facile qua tutta la la sicumera di mossa eccetera eccetera e io so storto e metto sui pezzi storti no che cacchio mi sta succedendo le perché inizio a mettere tranquilli bro i am not the enemies ancora ancora gli altri però no perché fanchigallo da là giù 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 basta con sti quadrati che mi rovinano tutto cristo le le e mi tocca a me e va van gull va va van gull va van mo aspe e va là quarantesimo livello cioè quarantesimo livello quarantesimo posto iniziamone subito un'altra che vedo che le mie abilità preferite da scegliere sono o KO o contrattacco comunque contrattacco è difensiva e KO vai subito al massimo te però non vai a rompere le balle a quelli più forti se poi quelli non forti usano contrattacco ma non sono buoni non vi manderanno mai niente ecco qua qualche piccola nozione qua in titis 99 per andare avanti e sopravvivere e me faccio un bel respirona allora casuale andremo a bersagliare qualcuno a cazzum questo qua questo qua adesso voglio prendermela tranquilla certo tranquilla poi vedete voi la mia super mega velocità ma io so così come vedo le robe le metto giù subito non ci sto tanto lì a pensare a pensarsi due volte porca miseria e dammi ancora un pezzo difficile no porco il demonio ho detto che voglio stare tranquillo ora inizio subito con a mettere cosa per fare il tetris non andiamo bene qua allora se volete imparare bene bene non fate mai quello che ho fatto io ovvero tentare subito di mettere i pezzi giusti per fare tetris quello lo farete più avanti perché altrimenti ecco come potete vedere adesso sono già in una situazione molto difficolti invece se giocate tranquillo per mandare via i pezzi anche normalmente porca miseria perché ho messo quello lungo lì ma va bene lo stesso voglio non mettere quello pezzo lì perché altrimenti io mi chiudevo un'altra volta questo qua così mi sa che ho sbagliato potevo metterlo tranquillamente giù come lo volevo mettere io no via eccalala un'altra volta no no casuale medaglia mai più mai più proprio e niente abbiamo già perso un'altra volta mamma mia questi video per fortuna che li ho fatti adesso che almeno non ve li porterò mai più qua con casuale adesso riproviamo un'altra volta perché dopo il brutto video sulle medaglie non vorrei concludere malissimo anche questo e no sto cazzo di antivirus non lo faccio allora manca un giocatore trovato ultimo tentativo con casuale poi i prossimi video li farò con controattacco con ko che ripeto sono le mie modalità preferite quelle che mi trovo meglio ecco che all'inizio giocavo con casuale e non mi piaceva ko poi ho visto che con ko si possono fare le belle cose quelle belle incredibili allora casuale non muovo niente ovviamente avete visto che in questi giorni sono un attimino storto nel senso che metto giù le robe ma sbaglio quindi non so cosa dire allora questo mettiamo qua le tanto mi mi fermerò per far carburare e raffreddare il cervello che mi serve bello attivo per capire qua dove mettere le robe no questo lo metto via si si che lo metto via perché quelli lunghi mi servono aia tipo adesso allora qua ho capito che devo utilizzare la tecnica di mettere via quelli lunghi così almeno da abbassare un attimo il quantitativo di spazzatura da mierda così almeno da salvarmi e pararmi le chiappe allora questo è arrivato il momento giusto ancora sto cazzo di di quadrato che arriva sempre nei momenti sbagliati yeah voilà no ogni tanto mi confondo col pezzo che ho in riserva oh la madone però che succede e che succede sto parlando troppo tiè le 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 cioè se mi davano un altro pezzo forse era meglio uno blu il mio re va bene anche questo che è azzurrino ma io volevo questo ma do lo stress di questi qua quadrati questo proprio lo metto qua questo lo metto qua che non gli faccio niente sì così mettiamolo qua perfetto yuhu le abilità orizzontali medaglia casuale per un bel po' non le utilizzerò più e farò roba con KO spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video con la modalità KO perché mi sento più meglio forte ciao a tutti